Il moduli denominati tonalità di Mi è composto dai seguenti notri, tra il Mi e il Fa diesis, un tono tra il Fa diesis e il Sol diesis, un tono tra il Sol diesis e il La diesis, un tono tra il La diesis e il Si, un semitono tra il Si e il Do diesis, un tono tra il Do diesis e il Re, un semitono tra il Re e il Mi, un tono. In pratica ci sono quattro variazioni della direzione a salire dei sharp, cioè dei diesis e il Sono, il Fa diesis, il Sol diesis, La diesis.